Ciao, eccoci di nuovo questa volta per presentarvi la famiglia di prodotti pensata per il canale per il settore retail. Sono una serie di prodotti con un packaging esclusivo pensato apposta perché il cliente possa servirsi solo e rispetto di tutte le misure di sicurezza alimentare. Ciao, eccoci di nuovo questa volta per presentare due dei nostri grandi classici della famiglia Dots Original, i Dots Glacé e i Dots Cacao. Li presentiamo in una versione di pack di 4 unità ognuno. Il prodotto non ha bisogno di forno, è un prodotto già pronto, solo 20-30 minuti per scongelare e già essere consumato. Ciao, parliamo ora della famiglia di pane cristallino. È un pane con elevate idratazioni e alcune caratteristiche molto specifiche. È un pane molto leggero, la crosta è croccante e la mollica ariosa è molto leggera. È un pane realizzato con ingredienti 100% naturali, è solamente acqua, pasta madre, farina, un po' di sale e olio d'oliva. Il pane cristallino non ha bisogno di forno, è un pane praticamente già cotto. Il nostro suggerimento di rigenerazione è di passarlo due minuti a un grill o al forno per dargli un tocco più croccante alla crosta. Lo presentiamo in un formato molto pratico per il settore retail, vengono comodamente pretagliati e in un packaging per garantire la migliore conservazione.